Nessuno può mettere Bebino in un angolo. Andiamo. Vi prego di scusare l'interruzione. Finora ho sempre chiuso io lo spettacolo. Quest'anno volevano impedirmelo, ma... Ma ho deciso di ballare ugualmente, con una nuova compagna. Che è una grande ballerina, ma... Ma che soprattutto mi ha insegnato che si devono difendere gli altri senza preoccuparsi delle conseguenze. Grazie a lei ho capito che tipo di persona voglio diventare. Parlo di Francis Houtman. Siediti, Jack. 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 Grazie. 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 Ricordati di metterlo in repertorio. Ora so che non sei stato tu a mettere nei guai Penny. Davvero? Quando sbaglio io lo riconosco. Eri stupendo la sua te. Grazie. 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 Grazie.